E' una tragedia che ha toccato a tutti noi. Sono state i funerali di Stato, assieme a diversi colleghi si risperava un clima di reale sofferenza, non solo tra i parenti delle vittime ma in tutta la popolazione ligure. Permettetemi quindi, prima di passare a esporre l'intervento, di rinnovare le mie personali condoglianze ai parenti delle vittime e di esprimere vicinanza ai feriti. Permettetemi anche di ringraziare le forze dell'ordine, di soccorsi volontari che hanno lavorato giorno e notte per salvare delle vite umane. Intanto vorrei chiarire all'Aula che quel ponte non è definibile come il ponte di Genova, anche se collocato nell'area metropolitana di Genova. Per noi del ponente ligure era l'unico modo per raggiungere il capoluogo via autostrada, per raggiungere quella Genova matrigna, come spesso la chiamiamo noi imperiesi, perché la sentiamo distante dalle nostre esigenze, ma che oggi ci fa sentire un po' tutti i genovesi. È un collegamento quindi non solo fondamentale per la città di Genova, ma anche per i collegamenti tra le province liguri ed è uno snodo cruciale per i rapporti nel nord Italia. Chi come me è passato centinaia di volte da quel ponte ha sempre pensato in cuor suo. Come fa a reggere con tutto questo carico? Ma è possibile che non si realizzano strade alternative? Ma in Italia si sa, arriviamo sempre tardi, dopo che si consumano le tragedie, a occuparci di queste cose. Ora cerchiamo di non rendere vana questa tragedia e troviamo la forza di guardare avanti. Seppur coinvolti emotivamente da Liguri, siamo parlamentari e dobbiamo lavorare per raddrizzare questo Paese. Tante parole sono state spese in questi giorni sulle responsabilità da debitare per il crollo del ponte. Io non mi esprimo e confido nella giustizia, ma una cosa fa davvero rabbia, apprendere di utili miliardari per la gestione delle autostrade. Penso alla 10, ci manca l'autostrada dei Fiori, sempre in Liguria, tra le più care d'Italia. Evidentemente c'è qualcosa che non torna tra i pedaggi spesi e le opere di manutenzione. È giunto il momento di fare chiarezza e rivedere seriamente la governance di queste infrastrutture. Detto questo, con questo intervento, vorrei focalizzarmi sugli effetti che la tragedia ha provocato in termini di danno al settore produttivo di quell'area. Se vogliamo ripartire è necessario dare subito segnali di interesse verso il mondo delle imprese. Ne approfitto della vostra attenzione anche per aggiornarvi di quanto si sta facendo sul territorio su questo specifico aspetto della tragedia. Devo dire che le istituzioni locali hanno dato e stanno dando prova di capacità politica e amministrativa di alto livello. È stata istituita una task force tra Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio, Autorità Portuale, Associazioni di Categoria per ascoltare le imprese e programmare gli interventi di sostegno. È stato attivato da Regione Liguria un numero verde gestito dalla Camera di Commercio, utile alla prima assistenza e all'orientamento delle imprese danneggiate attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. È stata effettuata una prima mappatura delle imprese presenti in zona rossa e nelle zone limitrofe per quantificare i danni diretti e indiretti delle imprese e del loro indotto. Grazie a questo lavoro posso informarvi che al 30 agosto risultano 1.432 imprese danneggiate dall'evento, di cui 40 ubicate in zona rossa, con danni materiali e soggette a ipotesi di localizzazione. Effettuata quindi una mappatura delle imprese che avranno esigenza di rilocalizzare e quindi trasferirsi in nuove sedi, compatibilmente con l'attività svolta e le esigenze produttive e pertanto si sta svolgendo un censimento delle aree produttive comunali e regionali da mettere a disposizione delle aziende. L'obiettivo è non perdere queste aziende. È stata attivata una collaborazione con gli ordini professionali per supportare a titolo gratuito le imprese nella prima fase di stima dei danni. La Regione Liguria ha predisposto il modello per la segnalazione dei danni che permetterà l'effettiva individuazione delle imprese che hanno subito danni diretti e indiretti ed è da compilare entro il primo ottobre. Ora, sempre relativamente al sostegno e alla salvaguardia occupazionale, la Regione sta valutando la sospensione per un periodo di 12 mesi dei debiti relativi ai piani di ammortamento e di agevolazioni già concesse alla PMI danneggiate dall'evento, di assegnare una priorità nella partecipazione ai prossimi bandi regionali e alle imprese ubicate nell'area interessata all'emergenza come incentivo agli investimenti. Come ho già detto, le istituzioni locali stanno lavorando bene e celermente per le questioni di loro competenza, ma non vanno lasciate sole. Ho molta fiducia nel Governo, l'ho visto presente sul territorio, l'ho visto stanziare rapidamente risorse per affrontare l'emergenza. Ora si tratta di capire come aiutare Genova e la Riguria a rialzarsi. Ho sentito dibattiti su leggi speciali, emendamenti vari, mille proroghe. Mi ha fatto piacere la proposta del Ministro Toninelli di fare un decreto legge per Genova alle infrastrutture. Se questa è la strada più incisiva e più rapida, dobbiamo sostenerlo a tutti. Non mi appassiona il metodo con cui diamo le risposte ai tecnicismi giuridici. L'importante è agire in fretta e agire con cognizione di causa. Allora, tornando a parlare di sviluppo economico, ci sono delle azioni che il Governo può fare subito e che contestualmente a quanto stanno facendo le istituzioni locali potrebbe costituire un pacchetto di misure per dare un po' più di respiro, una boccata di ossigeno alle imprese in difficoltà e di conseguenza ai lavoratori. Ad esempio la sospensione per la durata dello stato di emergenza degli obblighi contributivi, una cassa integrazione in deroga da applicare anche alle piccole imprese dell'artigianato e del commercio. Un sostegno al reddito mediante la concessione di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale con la relativa contribuzione figurativa della durata di quattro mesi a favore dei lavoratori del settore privato dipendenti di aziende operanti nella zona colpita del crollo. Un'indennità un'attantum in favore di lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del crollo. Bisogna chiedere all'Inps di sbloccare 15 milioni di euro che erano già stati destinati alla Regione sulla partita delle aree di crisi industriali semplice e complessa. Ci sono stati solleciti, ma è da dicembre del 2016 che Genova, pur rientrando in un'area di crisi semplice e quindi beneficiaria di fondi destinati alle imprese, aspetta queste risorse. Quindi interventi urgenti in un combinato disposto tra le competenze regionali e dello Stato. Finora vi ho parlato di sgravi e di incentivi come ne ha parlato anche il Ministro, relativa alle imprese, all'indote e ai dipendenti. Misure necessarie intanto per dimostrare che lo Stato c'è, per evitare la chiusura definitiva delle attività se non il trasferimento in un'altra Regione. Bisogna correre ai ripari, iniettare risorse fresche, rinunciare a tasse e tributi per trattenere sul territorio chi produce ricchezza, chi garantisce posti di lavoro. Questo deve essere il primo obiettivo di tutte le forze politiche. Bisogna lanciare il cuore oltre l'ostacolo, riemergere dalla tragedia di Genova con uno spirito propositivo e dinamico. Riuniamoci sotto l'egida del Governo con tutti coloro che hanno dimostrato di amare Genova e la Liguria, le associazioni di categoria e i professionisti. Tutte le forze politiche aiutino questo percorso virtuoso lasciando da parte le polemiche e le posizioni preconcette. affianchiamo, stigioniamo, suggeriamo al Governo soluzioni di ampio respiro per il rilancio di Genova. Vediamo se c'è da rivedere il codice degli appalti per talune procedure urgenti. Vediamo come effettuare un'esenzione di tributi sia nazionali che locali, un'aderoga ai limiti assunzionali, concludo il Presidente, per il reclutamento di personale che fa un volontariato. definiamo una volta per tutte che i mezzi di soccorso, di volontariato che vanno sulle nostre autostrade, ma non a Genova, non in seguito a un'emergenza, ma in tutta Italia non debbano pagare il pedaggio autostradale. Proviamo a costituire, visto che finora sono state fatte solo al Sud, zone logistiche speciali o economia speciale nell'area portuale di Genova per aiutare gli investimenti del porto e non soffrire una concorrenza a livello europeo che oggi è ancora di più colpita dopo la tragedia. Insomma, con questo intervento, e l'ho ridotto visto i tempi, spero di aver centrato le richieste del territorio. Ho visto la risoluzione presentata dalla maggioranza che ci apprestiamo a votare e che contiene questi obiettivi. Spero di aver presentato dei contenuti che il Governo ne tenga in considerazione di questi obiettivi. Come dicevo all'inizio, non chiamiamolo Ponte di Genova, chiamiamolo Ponte d'Italia, che sia la prova di un Governo che investe, investe nelle infrastrutture, che segua a testa alta le emergenze e che creda nello sviluppo della Liguria. Grazie. Grazie.